Ma è arrivato qualcuno al casale? Forse sono quello di per l'estate. Ma che fai io? Com'è che ti diami? Giulio. Facciamo un gioco. Uno. Due. Vieni. Allora Lia sei qui da sola? Certo che starsene qua da sola non è il massimo. E' tutto uguale. Gli alberi, i campi. Gli alberi, i campi. Accelerò? Io ti voglio aiutare. Eh? Sono aperto alla finestra. Esci, vedi, amore, sono qui. Esci! Via! 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 No fai se mia amia. 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 Grazie a tutti